Dal Vangelo secondo Marco Una buona domenica a tutti. La scorsa settimana abbiamo visto l'insuccesso che Gesù ha avuto a Nazareth. Non soltanto i suoi compaesani, ma i suoi stessi familiari non hanno creduto in Lui. Sono rimasti fermi sulle loro posizioni, su ciò che avevano sempre ritenuto giusto. Qui abbiamo già un primo messaggio importante per noi. Questo. Si può voler bene a Gesù, come i suoi compaesani, i familiari, amavano Gesù, lo stimavano, si può voler bene a Gesù senza credere in Lui. Per quale ragione questo accade? Perché noi diciamo, fossimo stati noi là a Nazareth, avremmo subito detto di sì. Ed è vero, se ragioniamo come ragioniamo oggi, noi avremmo detto subito di sì. Gli abitanti di Nazareth hanno detto di no, perché avevano capito che cosa comportava dire di sì. Aderire al Vangelo vuol dire cambiare l'immagine di Dio, vuol dire cambiare l'immagine di uomo riuscito, l'immagine di società. Ecco, erano cambiamenti troppo radicali quelli che Gesù richiedeva e hanno detto di no. Come mai noi diciamo così facilmente sì? Perché amiamo Gesù, gli vogliamo bene, ma non abbiamo capito che cosa comporta dirgli di sì, credere nel Vangelo. Quando noi ascoltiamo le beatitudini, noi diciamo che è bello e ci sentiamo discepoli di Gesù, perché ammiriamo ciò che Lui ha detto e siamo convinti anche di praticare un po' quello che Lui dice. Ma quando pensiamo, l'uomo beato che Lui ci propone, colui che si fa povero, colui cioè che mette tutto ciò che possiede, tutte le proprie capacità, non a servizio del proprio godimento, del proprio piacere, ma le pone a servizio della vita e della gioia del fratello, anche del nemico, anche di chi gli ha fatto del male. Quando noi capiamo questo sentiamo una ripulsa interiore e finché non sperimentiamo questa ripulsa vuol dire che non abbiamo capito, perché la legge della carne, dice Paolo, quella che ci viene istintivo, quella pulsione immediata, è contraria a ciò che ci propone lo Spirito. Quando noi consideriamo ciò che Gesù ha detto di quei due figli, il primo al quale il padre si rivolge e gli dice vai nella vigna a lavorare. E lui dice sì, poi non ci va. Quando capisce che cosa comporta, allora non ci va. Ma il secondo che dice subito di no e poi in seguito ci va. Dice di no perché ha capito che cosa comporta. Aderire a ciò che dice il padre soltanto in seguito gli dà l'adesione. Ecco l'importanza per noi. La necessità di fare questa esperienza che hanno fatto gli abitanti di Nazareth. La prima risposta che ci viene istintiva e dobbiamo fare questa esperienza è quella di dire di no. Ricordiamo il figlio maggiore della parabola del figlio prodigo. Quando dice al padre tu non sei giusto. Perché? Perché tratti uno scappestratto. Esattamente come me che ho lavorato, che mi sono dato da fare, che ho sempre obbedito. Non sei giusto. Eccola la ripulsa che si sente di fronte alla proposta di volto nuovo di Dio che fa Gesù di Nazareth. Oppure quello che accade a Giona, il quale dice a Dio tu non sei giusto. Perché? Perché non punisci i niniviti. Ecco, questo è il primo messaggio che noi possiamo già ricavare da ciò che è accaduto a Nazareth. Che cosa accade adesso? Ed è il brano evangelico di oggi. Di fronte al rifiuto del suo Vangelo che è avvenuto a Nazareth e che poi lo dirà nel Vangelo di oggi accadrà anche a voi questo rifiuto perché significa che hanno capito ciò che voi proponete, che è la mia proposta. Bene, come si è comportato Gesù? Forse noi ci saremmo scoraggiati, avremmo lasciato cadere le braccia. Gesù no. Gesù ha lasciato Nazareth e ha iniziato a percorrere tutti i villaggi delle vicinanze annunciando il Vangelo. E non solo riprende la sua missione, ma sentiamo adesso che cosa fa. In quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. Gesù vuole porre fine al mondo vecchio e dare inizio al mondo nuovo. Mette in conto anche l'insuccesso perché non è facile aderire alla sua proposta. Ma sa anche che non può portare avanti da solo questo disegno di salvezza. Sa che la sua vita è limitata. A un certo punto si conclude deve coinvolgere i discepoli in questo suo progetto. Sono coloro che hanno creduto in lui. Gli hanno dato la propria adesione. E allora che cosa fa Gesù? Li chiama a sé. Non si tratta di una chiamata ad avvicinarsi in senso materiale. sono già lì attorno a lui. Che cosa significa chiamarli a sé? Sta parlando a noi Gesù. Perché siamo noi questi discepoli che lui adesso vuole inviare a portare avanti il suo progetto di salvezza annunciando il Vangelo. Avvicinarsi a Gesù significa che prima di andare ad annunciare il Vangelo agli altri bisogna averlo annunciato a sé stessi. Bisogna averlo assimilato. Bisogna aver stabilito, cioè, una sintonia profonda con la persona di Gesù, con le sue scelte, con il suo stile di vita. Solo chi è stato realmente con Gesù può poi andare ad annunciare agli altri ed essere credibile perché si presenterà con la gioia di chi ha scoperto un grande tesoro e vuole coinvolgere anche coloro che lui ama perché li vuole felici in questa esperienza dell'incontro con Cristo. C'è una bella differenza fra fare una lezione di matematica o di fisica e annunciare il Vangelo. Il catechista non è uno che insegna una dottrina ma uno che incarna una proposta di vita, è felice di averla fatta e comunica agli altri questa sua esperienza di gioia. E poi, dopo che si è fatto questa esperienza di stare con Cristo, si è inviati. Gesù invia questi discepoli. Notiamo. Non manda qualcuno, qualche persona che ha questa incombenza, quindi i preti, i diaconi, le persone consacrate nella vita religiosa. No! Ogni discepolo deve sentirsi inviato, altrimenti non è discepolo, non è coinvolto in questo disegno di salvezza. Il discepolo che non sente il bisogno di condividere con gli altri il dono ricevuto probabilmente non è ancora convinto che scoprendo Cristo ha scoperto il senso della propria vita. E li manda due a due. Questo è un uso giudaico. Quando si volevano mantenere i contatti fra le sinagoghe non si inviava un singolo, sempre una coppia. anche perché questo ha il significato di essere persone credibili, testimoni affidabili. E noi lo vediamo nel Nuovo Testamento che troviamo spesso queste coppie, Pietro e Giovanni, che vanno al Tempio insieme dopo la Pasqua. Poi soprattutto quando la comunità di Antiochia decide di inviare degli annunciatori che è giunto il Messia inviarli alle varie sinnagoge sparse in tutto l'impero romano, la comunità di Antiochia scelglie una coppia Barnaba e Saulo. Poi ci sarà un'altra coppia Barnaba e Marco, Paolo e Sila, Paolo e Timoteo, sempre in coppia. Ma questo ha un significato però teologico importante. Coppia vuol dire comunità, vuol dire che chi va ad annunciare il Vangelo è espressione di una comunità, è parte di una Chiesa. C'è una bella differenza fra l'induismo, il buddismo e tutte le pratiche ascetiche che si propongono il raggiungimento della propria liberazione, della propria perfezione spirituale o la ricerca del proprio equilibrio interiore. Ecco, c'è una bella differenza dal cristianesimo. Queste possono essere vissute nella solitudine, nell'isolamento più completo. Il cristianesimo no, non può essere vissuto che in comunità e per costituire una comunità bisogna essere almeno in due. E notiamo la gioia di essere annunciatori ma parte di una comunità, inviati da una comunità in sintonia con il pensiero e con i sentimenti di una comunità. E la Chiesa non è un'associazione di amici tenuti insieme dalla simpatia reciproca ma da fratelli. Gli amici vengono scelti. Noi siamo responsabili delle nostre amicizie, non dei nostri fratelli. I fratelli non sono scelti e allora non siamo tenuti insieme in questa comunità dalla simpatia ma dall'amore di Cristo che è incondizionato, che non conosce alcuna barriera. E può essere anche faticoso stare in comunità però diventiamo credibili quando annunciamo il Vangelo se siamo uniti, se ci sentiamo parte di una comunità. Quando sentiamo che parlano della Chiesa diciamo non la Chiesa la mia Chiesa quella alla quale sono felice di appartenere anche se ha tanti limiti tante manchevolezze sono parte di questa Chiesa. E poi Gesù dà il potere a questi inviati exousia in greco l'unico potere che Gesù dà ai suoi discepoli non un altro potere per noi il potere significa l'autorità di comandare di dare ordini di farci obbedire no l'unica autorità che Gesù dà ai suoi discepoli è quella di scacciare gli spiriti immondi spiriti impuri lo dirà Gesù al termine della sua vita dopo la Pasqua ai discepoli sul monte dice Matteo mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra qual è il potere che Gesù ha ricevuto quello di scacciare dal mondo gli spiriti impuri cosa sono questi spiriti immondi non ci ha dato il potere di impiegare l'acqua santa per fare degli esorcismi no gli spiriti immondi sono tutto ciò che lotta contro la vita tutto ciò che disumanizza bene questi sono spiriti immondi lo spirito immondo la pulsione incontenibile la bramosia di accumulare beni di avere sempre di più anche a costo di commettere ingiustizie di fare guerre di distruggere il creato questo è uno spirito contrario alla vita se lo lasciamo agire disumanizza sappiamo molto bene che il nostro mondo è mosso da questo spirito immondo ecco Gesù dà il potere di sconfiggere questi spiriti immondi che noi riteniamo invincibili quante volte lo diciamo il potere dell'economia della finanza chi li controlla ecco Gesù ci ha dato proprio questa exusia questo potere che è la sua parola il suo spirito che vince tutti gli spiriti che disumanizzano lo spirito immondo che spinge gli uomini a cercare ciò che piace e solo ciò che piace pare invincibile perché l'istinto porta proprio a questo la pulsione interiore porta a ripiegarci su se stessi Gesù ha dato il potere di vincere questi spiriti disumanizzanti lo spirito che ti spinge ad aggredire a commettere violenze a fare guerre lo spirito che ti fa vedere chi è diverso da te come un nemico bene tutti questi spiriti creano un mondo disumano e sembrano invincibili e lo diciamo tante volte questo degrado della società oggi c'è tutta una concezione di vita che è invincibile si andrà sempre peggio dal punto di vista umano le forze del male sono fortissime perché è proprio questa pulsione istintiva che porta in una direzione disumanizzante ecco cosa promette Gesù la mia parola il mio spirito scaccia questi demoni immondi ma è necessario annunciare questo Vangelo perché dove arriva il Vangelo questi spiriti immondi non possono più stare o l'uno o l'altro ecco la necessità di annunciare questa parola fiducia quindi se non si crede in questa autorità in questa forza che Gesù ci ha donato non ci si muove ci si rassegna a lasciare che il mondo antico continui a disumanizzarsi adesso Gesù spiega come si devono presentare i discepoli che sono inviati ad annunciare il suo Vangelo ascoltiamo e ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone né pane né sacca né denaro nella cintura ma di calzare sandali e di non portare due tuniche prima di inviare i discepoli Gesù dà delle disposizioni che sono introdotte da un verbo greco paranghellei che significa dare ordini ed è l'unica volta nel Vangelo secondo Marco che Gesù dà degli ordini quindi sono molto importanti dice anzitutto cosa possono portare con sé lungo la via l'immagine è molto bella quella del discepolo che è in cammino non ha qui una dimora stabile ma ha un destino che va al di là di questo mondo cosa devono portare con sé il bastone interessante in Marco si dice che Gesù ha permesso di portare il bastone in Matteo in Luca si dice non il bastone per quale ragione hanno significati diversi questi bastoni nel Vangelo secondo Matteo e Luca è il simbolo dell'arma del povero per questo che in Matteo viene proibito Matteo è l'evangelista che più degli altri insiste sulla non violenza del discepolo è solo Matteo che ci riferisce la frase di Gesù a Pietro rimetti la spada nel fodero il mondo nuovo non lo si costruisce con la violenza ecco la ragione per cui tutto ciò che richiama strumenti di violenza vengono esclusi nel Vangelo secondo Matteo nel brano di oggi invece il bastone ha un significato diverso che troviamo nella Bibbia ricordiamo che per compiere la sua missione compiere prodigi a Mosè viene consegnato da Dio il bastone con il quale divide il Mar Rosso fa scaturire l'acqua dalla roccia è il simbolo del potere che Dio dona al discepolo che deve compiere una missione straordinaria bene anche il discepolo di Cristo che deve cambiare il mondo annunciando il Vangelo ha un bastone con sé simbolo della forza che Dio dona e questa è l'unica forza sulla quale il discepolo deve confidare la forza della parola e dello spirito di Cristo non su alleanze con i poteri di questo mondo sul denaro no questo pasticcia tutto e poi ciò che invece non devono portare con sé e adesso Gesù ricorre a dei paradossi però bisogna fare attenzione a non dare interpretazioni riduttive alle sue parole perché questo svigorirebbe il suo messaggio lo priverebbe del contenuto provocatorio e questo è un tema molto delicato quello dei beni della Chiesa dei discepoli sappiamo tutte le critiche del mondo laico alla Chiesa proprio riguardo alle ricchezze che possiede o allo sfarzo di certe strutture bene che cosa dice Gesù al discepolo devono presentarsi come persone che impiegano i beni di questo mondo ma sono staccati non li assolutizzano il cristiano ringrazia il creatore non disprezza i beni di questo mondo anzi sanno che sono doni che Dio ha dato per la vita dei suoi figli ma il centro del messaggio che è chiamato ad annunciare il discepolo è il destino ultimo della vita dell'uomo una vita quindi che va oltre questa vita e se il discepolo comincia ad accumulare beni quindi a mostrare che anche lui si ripiega su questo mondo come se fosse il suo destino ultimo allora non può andare in giro a predicare i valori evangelici quando hai il necessario per vivere quando hai il pane quotidiano il resto appartiene al fratello anche perché tiene sempre conto che alla dogana tutti i beni di questo mondo che non sono stati consegnati al fratello quindi non sono stati trasformati in un amore vengono requisiti ricordiamo come i primi discepoli avevano messo in pratica questa disposizione di Gesù quando Pietro e Giovanni vanno al tempio e trovano quel paralitico alla portabella Pietro dice guarda verso di noi e lui si aspetta che gli dia no l'elemosina e Pietro dice non possiedo né argento né oro ti do soltanto quello che ho nel nome di Gesù Cristo cammina oppure Paolo molto bello quel discorso al capitolo 20 del Vangelo degli Atti quando lui saluta gli anziani di Efeso e dice voi sapete che alle necessità mie di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani e in tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli devono essere soccorsi lavorando come io ho fatto ricordando le parole del Signore Gesù che ha detto si è più beati nel dare che nel ricevere una frase di Gesù che non è conservata nei Vangeli ma c'è stata conservata da Paolo quindi il necessario si accumulo no altrimenti tu discepolo non riuscirei ad annunciare il Vangelo e se lo annunci non sarai credibile non portare poi né pane né tasca pane per quale ragione? semplicemente perché non serve al discepolo non è consentito conservare provviste per il giorno dopo il pane che il discepolo chiede al padre è quello quotidiano e se gliene avanza lo donna a chi ha fame a chi è nel bisogno e poi non denaro nella cintura e qui c'è una finezza che va richiamata denaro è chiamato qui halkos in greco cioè rame il rame e il bronzo servivano per costruire gli spiccioli non l'oro o l'argento ecco dice Gesù nemmeno gli spiccioli deve tenere con sé il discepolo siamo al paradosso ma cerchiamo però di non far perdere il significato provocatorio di queste disposizioni di Gesù ricordiamo quello che chiede nel libro dei proverbi il saggio al capitolo 30 chiede due cose al Signore e dice non negarmele o Dio prima che io muoia due cose ti chiedo non darmi povertà e non darmi ricchezza fammi avere il mio pezzo di pane perché ti chiedo queste due cose perché se tu mi dai la ricchezza io sazio potrei dire il Signore non mi interessa più perché ho tutto quello che mi piace e non darmi nemmeno la povertà perché nell'indigenza potrei arrivare a rubare o addirittura a bestemmiare ecco due cose che il saggio chiede né ricchezza né povertà ecco lungo i secoli lo sappiamo che la Chiesa ha pagato a caro prezzo l'attaccamento ai beni di questo mondo e le alleanze con i poteri politici ha perso credibilità ricordiamo quel che dice il vescovo Ilario di Poitiers nel IV secolo quando il figlio di Costantino Costanzo aveva cominciato non più a perseguitare la Chiesa ma a favorirla dice Ilario di Poitiers noi non abbiamo più un imperatore anticristiano che ci perseguita ma dobbiamo lottare contro un persecutore ben più insidioso un nemico che non ci perseguita ma ci lusinga non ci flagella la schiena ma ci accarezza il ventre non ci confisca i beni perché ci donerebbe la vita ma ci arricchisce per darci la morte non ci spinge verso la libertà mettendoci in carcere ma verso la schiavitù invitandoci alle feste di palazzo non ci colpisce il corpo ma prende possesso del cuore non ci taglia la testa con la spada ma ci uccide l'anima con il denaro ecco la ragione per cui Gesù ha messo in guardia i suoi discepoli che siamo noi dal rapporto scorretto con i beni di questo mondo poi calzati i sandali e qui parla del vestito è interessante Luca proibisce i sandali perché Luca quello che insiste sulla povertà con cui si presenta il discepolo il distacco totale dei beni di questo mondo in Israele si andava scalzi Marco però scrive in un contesto diverso e scrive per i romani e a Roma scalzi andavano gli accattoni schiavi e i discepoli devono presentarsi per quello che sono non sono accattoni non sono schiavi sono persone staccate dai beni di questo mondo ma libere ecco la ragione per cui devono andare con i sandali non due tuniche due tuniche significa che anche il vestito è ridotto all'essenziale a ciò che è indispensabile e questa unica tunica ha anche un altro significato si insiste continuamente nel Nuovo Testamento che il discepolo è rivestito di Cristo questa è la tunica unica che lui deve portare non due tuniche una tunica di Cristo quando si è in chiesa poi dopo quando si tratta di denaro o di altre cose si veste la tunica pagana ha anche questo significato l'unica tunica nella lettera ai Romani Paolo rivestitevi del Signore chi vi incontra deve vedere Cristo nelle vostre parole il vostro modo di ragionare il vostro modo di agire vedono la persona di Cristo l'abito indica come noi appariamo all'esterno rivestitevi dell'uomo nuovo nella lettera agli Efesini nella lettera ai Colossesi rivestitevi di sentimenti di tenerezza di bottà di umiltà di mansuetudine di magnanimità ecco quindi non due stili di vita vivere cioè nella doppiezza nell'ambiguità la predicazione adesso sono inviati prevede che si possa essere accolti ma anche che si possa essere rifiutati come ci si deve comportare quando non si viene accolti e quando si viene accolti ascoltiamo e diceva loro dovunque entriate in una casa rimanetevi finché non sarete partiti di lì se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro ed essi partiti proclamarono che la gente si convertisse scacciavano molti demoni ungevano con olio molti infermi e li guarivano che cosa accadrà ai discepoli che sono inviati ad annunciare il Vangelo anzitutto Gesù dice che non devono aspettare che qualcuno li venga a cercare devono essere loro che portano il messaggio agli uomini nelle loro case cioè in tutti gli ambienti in cui vivono nel lavoro nella politica nello sport anche nel divertimento il cristiano si presenta incarnando una proposta di vita che non è quella pagana si comporta ragiona parla vive in un modo diverso dai pagani e annuncerà anche con la parola la ragione per cui fa queste scelte che cosa accadrà adesso? potranno essere accolti oppure rifiutati e qui Gesù dà delle indicazioni che riguardano i missionari che vanno ad annunciare il Vangelo ma il messaggio poi è rivolto a tutta la Chiesa entrati in una casa rimanetevi fino a quando non ve ne andiate da quel luogo che cosa significa? che si visita solo una famiglia e poi basta finito lì si trascurano tutte le altre non è questo il significato Gesù dice chi va ad annunciare il Vangelo troverà delle persone buone pie generose che gli staranno vicino che lo aiuteranno quindi gli offriranno anche ospitalità il primo alloggio non è mai il migliore è sempre una sistemazione di fortuna lo sanno i missionari che sono andati nelle terre lontane è una condizione molto precaria nella quale bisogna cercare di adattarsi a vivere come come si può ma in seguito succede che i missionari incontrano certamente gente ben disposta buona nei loro confronti e ricevono l'offerta di una residenza più confortevole poi un'altra ancora migliore e via via fino a quando poi si finisce per installarsi in palazzi eccolo il pericolo Gesù raccomanda rimanete nella prima casa ai discepoli si chiede una testimonianza di vita austera sobria aliena da qualunque ostentazione di luso o di ricchezza in gioco c'è la credibilità stessa della missione questo vale vale per i missionari ma vale per tutta la Chiesa quando c'è anche solo l'ombra di ricchezza e di sparso il Vangelo perde di credibilità significa significa anche un invito alla fiducia nell'ospitalità nel Vangelo di Lucca al capitolo 22 Gesù chiede ai discepoli e quando vi ho mandato senza borsa né sacca né sandali vi è forse mancato qualcosa e loro rispondono non c'è mancato nulla colui che annuncia il Vangelo deve fidarsi della presenza del Signore nella sua vita che lo accompagna che lo assiste possono essere accolti ma possono essere anche rifiutati come comportarsi Gesù dice scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza per loro questo gesto di scuotere la polvere era compiuto da ogni israelita quando lasciava la terra pagana e entrava nella terra santa non doveva portare con sé neanche la polvere della terra pagana sulla bocca di Gesù questo gesto ha un significato diverso non è il rifiuto del pagano o di chi non accetta il messaggio evangelico il testo dice come testimonianza per loro in loro favore qui il fatto di lasciare il pagano nella sua condizione significa rispetto delle sue scelte il cristiano non può essere assillante non può infastidire le persone urlando la propria fede le proprie ragioni no fa una proposta di vita ed è una proposta a cui uno aderisce per amore quindi in tutta libertà sono inviati i discepoli a fare una proposta di vita non a ingaggiare delle battaglie ideologiche non ha senso un dibattito televisivo in cui ognuno cerca di urlare più degli altri non è così che si annuncia il Vangelo e l'obiettivo anche del cristiano non è ottenere delle conversioni quindi aumentare i numeri lui deve solo annunciare fedelmente la parola di Cristo incarnandola con la sua vita poi l'adesione o il rifiuto i frutti più o meno abbondanti non dipendono da lui ma dal tipo di terreno su cui cade questo seme del Vangelo ma questo scuotere la polvere dai propri sandali ha anche un altro significato più spiccio direi quando si va in terra pagana è inevitabile che un po' di polvere di paganesimo si attacchi agli abiti e quando si torna nella propria casa questa polvere deve essere sbattuta facciamo un esempio molto semplice se io entro in dialogo con chi è molto lontano dalla proposta evangelica ragione in un modo completamente diverso per cui va tutto bene tutto lecito non bisogna essere medioevali retrogradi stiamo attenti perché questi discorsi pagani finiscono per lasciarci addosso un po' di polvere pagana quando si torna a casa il contatto con il Vangelo ci deve purificare anche da questa polvere la conclusione è che i discepoli partono e predicano proclamando la metanoia la conversione lasciare il modo di vivere e di ragionare pagano e accogliere la vita nuova il mondo nuovo proposto da Cristo e difatti con il potere che ha dato loro Gesù scacciano molti demoni dove arriva il Vangelo quei demoni di cui abbiamo parlato non possono più rimanere ecco che c'è la guarigione di tutta una società che diventa una società realmente umana cioè composta da figli di Dio e una vita da fratelli auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana che si tratta di un'escrizione che si tratta di un'escrizione Grazie a tutti.